La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preeminente interesse nazionale, articolo 1,1 della legge speciale per Venezia, promulgata con le firme del Presidente della Repubblica Giovanni Leone e del Consiglio Giulio Andreotti il 16 aprile 1973. A pochi giorni dal mezzo secolo di vita della norma nata per la salvaguardia artistica, socio-economica, ambientale e idraulica di Venezia, C16A è un coordinamento di associazioni, comitati e singoli cittadini che si sta formando per recuperare il senso profondo di quella legge. Se veramente questa legge dovesse essere rifinanziata come si spera da quando è stata fatta richiesta nel 2020, vorremmo che queste risorse fossero impiegate in modo capillare innanzitutto, non grandi progetti, ma in modo capillare, puntuale, ma che venga soprattutto ascoltata la cittadinanza, le persone che ci vivono, che hanno interesse nella cura di questa città perché la vogliono vivere, non vogliono lasciarla. Emanuela Vassallo è Presidente della Sezione Veneziana di Italia Nostra, un'associazione in prima linea nella salvaguardia di Venezia dal 1959. Le adesioni arrivano anche dalla terraferma. Anna Forte, ad esempio, è Presidente dell'Associazione Amici del Parco di San Giuliano. È ovvio che più cittadini mestrini riusciranno a capire cosa era stato progettato sulla gronda lagunale, cos'era il Parco di San Giuliano nella versione del piano guida di Mambro, più potranno partecipare, come hanno già fatto, per richiedere all'amministrazione un'attenzione rispetto alla salvaguardia. In una zona che è l'unico sito unesco della città di Mestre, cioè il Parco di San Giuliano è inserito nel sito unesco Venezia e la sua laguna. I primi passi saranno un momento di approfondimento della legge e una manifestazione dalle 15 di domenica 16 aprile in Campo Sant'Angelo. Quello che noi temiamo è che i fondi della legge speciale vengano poi devoluti per altri progetti che non hanno nulla a che fare con i problemi della gente, dei cittadini e dei loro bisogni, con finanziamenti di opere che non c'entrano nulla per affrontare, per risolvere i problemi della casa, del lavoro, dei servizi e dei trasporti dei cittadini di questo comune.